Furto di dati e contratti non richiesti, per questo Feder Consumatori ha denunciato Eni che adesso dovrà pagare 3 milioni di euro. Tutto era iniziato nei mesi scorsi quando alcune decine di cittadini si erano rivolti a Feder Consumatori, denunciando di aver subito un vero e proprio furto di dati, grazie al quale si erano poi ritrovati titolari di un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica sul mercato libero con Eni, gas e luce, un contratto ovviamente non richiesto. Praticamente l'agenzia a cui era stato dato il mandato di acquisire nuovi clienti in realtà non contattava le persone, ma era venuta in possesso in maniera non corretta del codice POD che identifica l'utenza fisica elettrica e del codice fiscale, attivava solamente con questi dati il nuovo contratto. Tutti gli altri dati, residenza e quant'altro, venivano inventati di sana pianta. Come se ne sono accorti i cittadini? I cittadini se ne sono accorti perché hanno gli è pervenuta la lettera di chiusura contratto del precedente gestore. Da qui la denuncia al garante della privacy e da adesso per l'azienda è arrivata una sanzione milionaria in quanto soggetto responsabile dei dati attraverso i quali sono stati attivati i contratti non richiesti. I cittadini purtroppo hanno subito molti disagi anche perché, teniamo presente le persone che sono rivolte a noi, sono anche persone di età avanzata, sono persone che erano nel mercato tutelato, utenze residenziali tramite la bolletta quindi pagavano anche il canone, veniva effettuato il pagamento del canone Rai e presumibilmente ci saranno delle problematiche anche perché queste persone sono tra virgolette morose anche nei confronti del canone Rai, che è un'imposta, quindi in maniera assolutamente incolpevole e innocente.